Musica Cari telespettatori di Fano TV, benvenuti in questo spazio di approfondimento che oggi dedicheremo al Comune di Pergola. Ormai è iniziato il countdown per queste elezioni comunali e noi continuiamo a farvi conoscere coloro che sono i vari candidati di questa tornata amministrativa. Come diciamo sempre il nostro obiettivo è quello di farvi entrare nella cabina elettorale più preparati, quindi per fare una scelta consapevole. Proprio per questo noi ovviamente abbiamo invitato entrambi i candidati a sindaco di Pergola, Simona Guidarelli e Antonio Baldelli. Oggi però ci confronteremo soltanto con Antonio Baldelli al quale do il benvenuto. Buonasera a lei. Buonasera. Dunque, che cosa devo precisare? Innanzitutto che Simona, come dicevo, è stata invitata ma non ha accettato il nostro invito. Devo dire la verità, da una parte noi magari non siamo stati così tempestivi ad organizzare questo incontro, dall'altra Simona a pochi giorni, dal 26 maggio, preferisce un confronto in pubblico, quindi a porte aperte e non all'interno di una televisione locale. Una scelta rispettabile anche se un confronto non precludeva l'altro. Baldelli, intanto vorrei chiederle se è vero che si è sottratto a questo confronto pubblico che Guidarelli le richiedeva e se sì perché. La cosa fa davvero sorridere anche perché io non ho mai ricevuto alcun invito di incontro pubblico da Simona Guidarelli. Anzi, è stata una scorrettezza quella di pubblicare un video nel quale mi accusava di voler fuggire a qualsiasi incontro con lei. A quel punto sono stato costretto a sfidarla io ad un incontro, da tenersi di fronte ad un giornalista professionista, magari anche di fronte alle telecamere di una delle nostre emittenti televisive, ma abbiamo visto che Simona Guidarelli è fuggita. È fuggita anche perché basta leggere il suo programma fatto da quattro paginette riempite dal nulla, riempite da annunciazioni generiche irrealizzabili e soprattutto io ricordo il candidato Guidarelli nei cinque anni di Consiglio Comunale quando è sempre arrivata con tre pagine scritte da casa, lette quelle tre pagine, probabilmente scritte anche da qualcun altro, poi il silenzio assoluto in Consiglio Comunale. E se vogliamo ridere un po', le voglio raccontare cosa ha scritto il candidato sindaco del PD per Argola Unita nella sua pagina Facebook, ossia che questo video, che lei non partecipava a trasmissioni televisive perché poi il video sarebbe potuto essere manipolato, quindi credo che sia un'accusa anche nei vostri confronti. Ormai la campagna elettorale è quasi al termine, per chi ancora non lo sapesse, il suo fratello le ha passato un po' il testimone, quindi dopo dieci anni di legislatura adesso si è candidato al Consiglio Comunale di Pergola, mentre lei ha deciso di scendere in campo sempre per questa forte amore per la città, insieme a Pergola nel cuore, che è una lista nata dieci anni fa. Per quale motivo ha deciso di candidarsi, quindi mettersi in gioco per la sua comunità? Sì, in realtà qualche mese fa abbiamo deciso di terminare la nostra esperienza politica anche perché dieci anni sono faticosi, impegnativi e a volte sottraggono anche molto tempo alle tue passioni e alle relazioni in genere. In realtà poi una sera abbiamo partecipato ad un incontro organizzato da un consigliere del Partito Democratico a cui hanno partecipato anche undici dirigenti dell'Asur per parlare del diritto alla sanità, diritto alla salute e per parlare dell'ospedale di Pergola. In quel dibattito, in quel confronto, il primario chirurgo dell'ospedale di Pergola è stato intimato di starsene zitto, di tornare seduto, perché stava contraddicendo le falsità che provenivano dal consigliere regionale del Partito Democratico e dai dirigenti dell'Asur. Io sono intervenuto a sostegno della verità che voleva proferire il primario e sono stato interrotto in cinque minuti di mio intervento dai dirigenti Asur e dalla CLAC che si era portata al PD Pergola Unita almeno 15 volte. Usciti da quella sala abbiamo sentito il dovere e la responsabilità di non lasciare la città in mano a questi personaggi. e le dico di più, lo stesso primario, che era veramente dispiaciuto per quello che era accaduto, ha deciso di candidarsi con Pergola nel cuore. E questa è una risposta sicuramente chiara. Dunque, voi avete distribuito delle brochure intitolate Dieci anni di fatti. Qual è l'intervento di cui Pergola nel cuore ne va particolarmente orgogliosa? Bene, le voglio dire, Simona, che in dieci anni di amministrazione noi abbiamo varato ben cinque piani delle opere pubbliche, ossia uno ogni due anni. I lavori sarebbero tanti. Io ricordo con molta soddisfazione e con molto orgoglio ad esempio la riqualificazione dei giardini storici, che abbiamo voluto titolare a Giovanni Paolo II, la riqualificazione dell'ingresso della nostra città, via Don Minzoni, la riqualificazione del viale più importante di Pergola, viale Martiri della Libertà. E questi sono i lavori realizzati. In progetto ci sono tanti altri lavori. E mi piace fra questi ricordare forse due più importanti, anzi sicuramente i due più importanti per impegno economico, che sono il nuovo impianto di pubblica illuminazione LED, che sarà realizzato sull'intero territorio comunale con un investimento di 1.650.000 euro e realizzeremo il nuovo impianto dalle località e dalle frazioni di campagna fino al capoluogo, fra l'altro risolvendo anche tante problematiche che provenivano da linee della pubblica illuminazione vecchie anche di 50 anni. Poi porteremo alla città anche un risparmio di oltre il 60%. L'altro progetto a cui teniamo molto è il progetto Dormire nella storia, con il quale andremo a restaurare, a ristrutturare lo storico Palazzo Malatesta, presso il quale noi realizzeremo una struttura alberghiera di qualità. Ciò sarà possibile tramite il più grande finanziamento a fondo perduto, che è riuscito a ottenere la giunta comunale Baldelli, partecipando al concorso Bellezza, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il recupero dei luoghi storici abbandonati. Ecco, prima accennava anche il tema della sanità, che sicuramente è un tema cruciale per Pergola, al centro di tante vostre battaglie. E, insomma, anche spesso avete sostenuto e ribadito che il Partito Democratico regionale, in particolare, vuole smantellare i nosocomi e che anche quello di Pergola sarebbe a rischio. Ancora oggi siete di questa idea? Oggi siamo stati soffragati dai fatti. L'ospedale di Pergola è stato smantellata, la chirurgia è stata addirittura chiusa e trasferita con soli otto posti eletto all'ospedale di Urbino. Ma parlando del PD, vorrei anche rilevare alcune mancate verità dette in passato dal candidato Guidarelli, al quale, se oggi fosse stata presente, avrei rivolto delle domande. Io vengo rimproverato, e proprio dalla parte avversa, di chiamare loro PD Pergola Unita, anche se in realtà si chiamano Pergola Unita. Ma non li definisco PD Pergola Unita solamente perché, per la maggioranza, questa compagine è formata da esponenti del Partito Democratico. Faccio un esempio, Graziano Ilari, che è stato cinque anni fa candidato sindaco di Pergola Unita e oggi è candidato consigliere comunale. Graziano Ilari, per chi non lo sapesse, è il segretario comunale del Partito Democratico, ma è stato anche l'assessore provinciale del PD al bilancio, ossia coloro che hanno creato quel disastro in provincia, basta pensare alle nostre strade provinciali. Io li chiamo PD Pergola Unita perché purtroppo in questi anni sono stati i servili esecutori delle direttive e degli ordini di Ceriscioli e di Minardi, che fra l'altro la stessa Guidarelli in alcuni suoi comunicati di stampa ha definito suoi referenti politici in regione. Quindi avrebbe insomma proprio ammesso? Sì, lo ha ammesso candidamente, forse anche sprovedutamente. E allora vorrei mostrare ai telespettatori questo manifesto che solamente qualche anno fa è stato affisso sulle bacheche della minoranza pergolese. E vorrei leggere solamente due frasi, se posso. Stiamo ancora attendendo le scuse di Baldelli e Soci, anche qua la dice lunga sulla qualità politica dei nostri avversari, perché noi siamo amministratori, non siamo soci, per aver definito nemici di Pergola, ossia gli amministratori regionali, coloro che hanno portato la sanità regionale ai primi posti in Italia. E allora qua io chiedo a Guidarelli, avrei chiesto a Guidarelli, se ha mai aperto un giornale, se ha mai aperto la tv e ascoltato un telegiornale, perché solamente qualche giorno fa, in uno studio del sole 24 ore, è apparsa la graduatoria delle province italiane. E la provincia di Pesorubino è risultata fra le ultime per la qualità dei servizi ospedaliere, 87esima su 107 province. Fra l'altro, poi infatti mi puoi rispondere anche in questo, così facciamo una domanda unica. La nostra regione in Italia è anche, secondo il report di FP e CGL, in tema di liste d'attesa sarebbe ultima in Italia. Ora, anche in questo caso, che cosa possono fare i vari sindaci della provincia di Pesorubino? Possono battere i pugni? Ecco, quindi chiedo a voi che cosa avete fatto e che cosa fa anche la parte avversaria. Non devono battere i pugni, così come ha fatto l'attuale sindaco di Pergola, nella conferenza dei sindaci di Aria Vasta, una conferenza consultiva, ma che ha la sua importanza e soprattutto non devono fare, come gli esponenti del PD Pergola Unita, fidarsi delle rassicurazioni di chi non ha mai mantenuto una promessa. E quindi vorrei leggere anche la seconda frase. Dopo le rassicurazioni di Mezzolani, l'allora assessore alla sanità, siamo sempre più convinti che la nascita dell'ospedale unico, Pesorofano, porterà grossi giovamenti a tutta la sanità provinciale, Pergola compresa. E allora, se la Guidarelli fosse stata presente e non fosse scappata, io le avrei chiesto, ma quello che ha scritto la tua minoranza solamente qualche anno fa si è rivelato la verità oppure è accaduta la cosa opposta? Oppure è stato smantellato l'ospedale di Fano, è stato smantellato l'ospedale di Pergola, sono stati chiusi gli ospedali di Cagli, Fossombrone e Sasso Corvaro. E poi mi dispiace veramente che una forza politica che dovrebbe rappresentare la città come vorrebbe fare Pergola Unita sia contenti delle rassicurazioni dell'assessore e non studi i piani sanitari regionali, non studi gli atti amministrativi, non faccia le differenze che ci sono fra la sanità della nostra provincia oppure la sanità della vicina Emilia Romagna, della Lombardia o del Veneto. Passiamo adesso invece agli obiettivi che vi siete prefissati per i prossimi cinque anni. Ecco, se lei dovesse vincere le elezioni, partiamo dal centro storico, che è un po' il fulcro di Pergola. In alcuni comuni spesso vediamo anche negozi che chiudono battenti. Qual è la situazione Pergola e che cosa anche avete intenzione di fare per agevolare ovviamente imprenditori e commercianti? Purtroppo registriamo una crisi di tutti i centri storici. Pochi giorni fa leggevo la crisi del centro storico di Fano, la crisi del centro storico di Reggio Miglio, una città, un capoluogo da 100.000 abitanti. A Pergola c'è questa crisi, evidente, ma si aggiungono anche scelte sbagliate fatte in passato nella programmazione urbanistica. Pensi lei, Simona, che circa 20-30 anni fa le scelte urbanistiche dei passati amministratori hanno fatto sì che tutti i centri di interesse economico, finanziario e di servizi siano stati trasferiti dal centro alla periferia della città. Mi riferisco agli uffici postali, mi riferisco al principale istituto di credito di Pergola che era sito in un palazzo storico e lì avrebbe potuto avere una sede prestigiosa e invece è stata permessa il trasferimento. Mi riferisco alla creazione di un centro commerciale all'estrema periferia della città. Centro commerciale che si sarebbe potuto costruire nel centro storico dove è situato l'immobile dell'ex ospedale c'era una cordata di imprenditori disposto a realizzare questo progetto e a poi contattare la Curia, proprietaria dei terreni retorstanti, per costruire lì un grandissimo parcheggio. Desertificando il centro storico è logico che non c'è più motivo per frequentare per i pergolesi ma anche per i turisti il centro storico. Noi vogliamo invertire questa tendenza con tre grandi progetti Dormire nella storia che abbiamo già illustrato con la realizzazione di un albergo in Palazzo Malatesta con il progetto Pergola Turistica e con il progetto Vieni in Centro. Il progetto Pergola Turistica punta sul potenziamento del nostro Museo dei Bronzi Dorati che è già venuto, anche lei ricordo ha partecipato alla... Ero presente, l'inaugurazione di questa sala immersiva davvero fantastica. La sala immersiva che è davvero una meraviglia, è stata realizzata da Paco Lanciano perché per Pergola abbiamo finora scelto sempre il meglio. Paco Lanciano è un divulgatore scientifico, è un fisico ma soprattutto è famoso per essere il consulente di Piero Angela, di Quark e di Super Quark. Infatti invito anche tutti i telespettatori a visitare il nostro museo. Se verrete a visitare il nostro museo, voi entrerete nella sala immersiva e assisterete ad una vera e propria puntata di Super Quark in cui vi sarà illustrata la storia dei bronzi dorati che sono l'unico gruppo equest di bronzo dorato di epoca romana esistente al mondo. Tra l'altro continuerete anche in questo progetto di riqualificazione della musea? Sì, infatti abbiamo finora aperto solamente la sala immersiva il progetto di riqualificazione è molto più ampio e vogliamo fare del museo dei bronzi dorati un gioiello. Già lo è, ma vogliamo fare un gioiello ancora più importante per la promozione turistica della nostra città che abbiamo consolidato, perché vorrei ricordare solamente alcuni dati. Negli ultimi dieci anni i visitatori del museo dei bronzi dorati sono stati più di 100 mila. Abbiamo aumentato i visitatori al museo dei bronzi dorati rispetto ai cinque anni dell'amministrazione che ci ha preceduto di oltre il 34%. L'abbiamo fatto e qui voglio fare un pubblico ringraziamento anche alla preziosa collaborazione di ConfCommercio e del direttore Varotti. Ecco, dicevamo anche di questi progetti e l'altro vieni in centro e trovi sempre parcheggio. Che cosa intendete fare? Sì, vieni in centro e trovi sempre parcheggio. Purtroppo a volte noi cittadini siamo pigri e vogliamo il parcheggio immediato a disposizione altrimenti preferiamo frequentare altri luoghi. Allora Pergola dispone di un parcheggio che è conosciuto come parcheggio di protezione civile che è prossimo al centro, però il percorso per raggiungere il centro è molto angusto. Allora vogliamo realizzare, vogliamo acquistare il terreno retrostante il parcheggio, allargare il parcheggio e poi realizzare una passerella che renderà molto più vicino l'accesso al centro, rendendo a disposizione oltre 200 parcheggi nuovi parcheggi per parcheggiare e recarsi al centro, frequentare al centro. Ma accanto a questo progetto che è stato già finanziato con il quinto piano dell'Opere Pubblica abbiamo anche un altro progetto. Vieni in centro perché come dicevo prima bisogna creare quelle occasioni perché i pergolesi tornino a frequentare il centro perché i turisti dal museo i 100.000 turisti che hanno visitato il museo in questi dieci anni tornino a visitare il centro. Allora realizzeremo per i turisti un percorso storico monumentale che partirà dal museo e raggiungerà tutti i principali monumenti palazzi e chiese del centro storico. Realizzeremo proprio nella parte retrostante il palazzo comunale il mercato della terra dove i nostri agricoltori potranno vendere i loro prodotti biologici a chilometro di zero secondo la filosofia dello slow food e anche un centro ecologico in cui sarà installata la cassetta dell'acqua così i cittadini potranno soffrire della nostra acqua che è davvero meravigliosa per qualità e anche un ecocompattatore dove potranno portare bottiglie di plastica, flaconi magari di detersivi e a fine anno in base alle quantità conferite riceveranno un buono da spendere nei negozi del centro che avranno aderito a questa iniziativa. Ecco io vorrei ricordare ai nostri telespettatori che Pergola dal 2018 è entrata a far parte anche del club dei borghi più belli d'Italia sicuramente per tutte le peculiarità che ha ma al centro appunto sono collegati anche i vari quartieri per cui le chiederei quali sono i progetti invece per le altre piccole frazioni I progetti sono tanti sia per il centro che per le frazioni vorrei ricordare un importante progetto per il centro che è la riqualificazione del quartiere di Santa Maria delle Tinte dove riqualificheremo l'area degli ex lavatoi e poi realizzeremo un percorso che dal quartiere delle Tinte raggiungerà il quartiere del Mercatale nei pressi dell'area Sosta Camper un percorso che si dipanerà sotto le antiche mure della città di Pergola che verranno illuminate e sarà anche quella un'altra attrattiva per i turisti e una piacevole passeggiata per i nostri concittadini Fondamentale considerare anche la famiglia, il volontariato, il sociale per cui essendo spaccati importanti della nostra società le chiedo che cosa avete intenzione di fare anche per quanto riguarda le tasse per l'inclusione Innanzitutto in questi ultimi 10 anni con orgoglio rivendichiamo di aver aumentato i fondi e servizi sociali portandoli a oltre 800 mila euro nonostante i tagli gravissimi ricevuti da Regione e Stato fra gli ultimi tagli che io ritengo vergognosi quelli per il trasporto dei malati oncologici che la Regione ha effettuato proprio nelle scorse settimane il nostro gioiello è sicuramente il centro Margherita che ospita 18 ragazzi diversamente abili del comune di Pergola e dei comuni limitrofi un centro che doveva chiudere noi abbiamo salvato e abbiamo potenziato insieme a quel centro perché noi frequentando quel centro abbiamo meglio compreso le necessità delle famiglie di questi portatori di handicap e allora abbiamo capito il loro terrore di dover abbandonare ad esempio i loro cari disabili in dei momenti particolari e allora anche grazie alla collaborazione di un imprenditore privato e utilizzando un immobile che ci è stato recentemente donato noi vorremmo realizzare una casa alloggio una casa accoglienza per i disabili quando le famiglie dei disabili devono per qualche motivo allontanarsi da casa e lasciare questi ragazzi devono sapere che li potranno lasciare alla città di Pergola dove avranno le stesse cure che hanno finora ricevuto in famiglia parlando di sociali io parlerei anche di sport visto che significa aggregazione, formazione e non solo ecco qui ci sono dei progetti importanti che riguardano dei lavori sullo stadio ma anche il nuovo palazzetto dello sport addirittura si, sport e giovani abbiamo deciso di investire nello sport anche perché ci sono associazioni che convolgono tanti giovani sono appena iniziati i lavori di rifacimento del muraglione del campo sportivo che ne aveva davvero bisogno realizzeremo proprio per alleggerire le spese di queste associazioni anche un impianto solare termico per il nostro campo sportivo e siamo in contatto con un finanziatore privato per realizzare un palazzetto dello sport a Pergola perché anche di questo c'è bisogno io nella giornata di ieri devo dire che ho letto tutto ovviamente il vostro programma elettorale devo dire che è molto ambizioso per cui la domanda mi sorge spontanea potranno seguire dei fatti a queste promesse? guardi abbiamo realizzato 36 pagine di programma elettorale in cui abbiamo citato tutte le località di campagna tutte le frazioni e tutti i quartieri della nostra città ma quello che è bello in questo programma abbiamo inserito quello che è il quinto piano delle opere pubbliche con 65 cantieri in partenza con oltre 9 milioni di opere pubbliche previste di cui 6 milioni già interamente finanziati quindi questo programma è ambizioso ma è già quasi del tutto finanziato per lavori che sono già partiti altri saranno in partenza nelle prossime settimane altri ancora nei prossimi mesi un ultimo appello Valdelli perché i suoi concittadini dovrebbero votare lei e pergola nel cuore? dovrebbero valutare i 10 anni di fatti dovrebbero valutare chi ha finora difeso il nostro ospedale il nostro diritto alla salute e chi non lo ha fatto dicendo come ha detto il primario di chirurgia del nostro ospedale non dovremmo dare il voto chi ha messo il cervello nel cassetto e parla secondo le direttive del partito dobbiamo difendere con amore la nostra città io ringrazio Antonio Baldelli per questo confronto grazie davvero per essere stato nei nostri studi e un buon proseguimento di giornata a tutti i nostri telespettatori arrivederci arrivederci